Novena in onore a San Giovanni Maria Vienney Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ti amo, mio Dio, e il mio unico desiderio è di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita. Ti amo, o Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. Ti amo, Signore, e unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente. Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente. Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante, ti amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. Ti amo, o mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me, e mi tieni qua giù crocifisso con te. Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo. Sesto giorno Saper perdonare Donaci, Signore, per l'intercessione di San Giovanni Maria Vienei, di perdonare coloro che ci hanno fatto del male e di amare i nostri nemici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dalle omelie di San Giovanni Maria Vienei Il Buon Dio perdonerà solamente coloro che avranno perdonato. È la legge. I santi non nutrono né odio né astio. Essi perdonano tutto, anzi, ritengono sempre di meritare, per le offese che hanno arrecato al Buon Dio, molto di più dal male che viene loro fatto. I cattivi cristiani, invece, sono vendicativi. Quando si odia il proprio prossimo, Dio ci restituisce questo odio. È un atto che si ritorce contro di noi. Un giorno, dicevo ad una persona, ma allora non desidera andare in paradiso, dato che non vuole vedere quell'uomo. Oh, sì che voglio andarci, tuttavia cercheremo di stare lontani l'uno dall'altro, in modo da non vederci. Non avranno di che preoccuparsi, poiché la porta del paradiso è chiusa all'odio. In paradiso non esiste il rancore. Per questo, i cuori buoni e umili, che sopporteranno le ingiurie e le calunnie, con gioia o indifferenza, cominciano a godere del loro paradiso in questo mondo. Coloro, invece, che serbano rancore, sono infelici. Hanno l'espressione preoccupata ed uno sguardo che sembra divorare ogni cosa attorno a sé. Ci sono persone, che in apparenza devote, se la prendono per la minima ingiuria, per la più piccola calunnia. Si può essere santi da fare miracoli, ma se non si ha la carità, non si andrà in paradiso. L'unico modo per spiazzare il demonio, quando questi suscita in noi sentimenti di odio verso coloro che ci fanno del male, è pregare subito per loro. Ecco come si riesce a vincere il male con il bene, ed ecco cosa significa essere santi. Preghiera conclusiva Il santo curato d'Ars era solito dire che nella preghiera ben fatta i dolori si sciolgono come neve al sole. Eleviamo quindi con fiducia la nostra preghiera a Dio, dicendo insieme Perché nella Chiesa si riscopra il profondo valore della confessione e della direzione spirituale per un graduale progresso nella vita cristiana. Preghiamo Ascoltaci, oh Signore Perché l'Eucaristia, rinnovata per la remissione dei peccati e adorata come presenza reale di Cristo Gesù, sostenga il cammino di fede e di amore della nostra comunità parocchiale e di ciascuno di noi. Preghiamo Ascoltaci, oh Signore Perché i sacerdoti vivano con amore il ministero al quale sono stati chiamati e con la grazia dei sacramenti santifichino il popolo loro affidato. Preghiamo Ascoltaci, oh Signore Perché il Signore conceda alla sua Chiesa il dono di numerose e sante vocazioni sacerdotali, Che seguendo l'esempio del santo curato d'Ars, siano instancabili nel dono di sé a servizio di Dio e dei fratelli, preghiamo Ascoltaci, oh Signore Con spirito filiale, rivolgiamoci a Dio nostro Padre, con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indure in tentazione, ma liberaci dal male. Amen O Dio, onnipotente e misericordioso, che in San Giovanni Maria Vienney ci hai offerto un mirabile pastore, pienamente consacrato al servizio del tuo popolo. Per la sua intercessione e il suo esempio, fa che dedichiamo la nostra vita per guadagnare a Cristo i fratelli, e godere insieme con loro la gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen San Giovanni Maria Vienney prega per noi